qui col cazzo che passi guarda le moni cazzo di giro guarda le moni guarda le moni oh fra quando ti vieni in marocco vieni a casa mia va bene va bene fra e fare giocare un partice di calcio per me va bene sono frati agosto il fatto la mia squadra e lui fa la sua e lui fa la sua e lui fa la sua caldike a yedir il fracca diaglio o e non cedir il fracca diaglio jib drani diaglio e lui jib drani diaglio e lui fa la bo match ah ah i'ma il premissio i'm fari tanti richi balo tanti oh drani ah 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 frat aspetta aspetta per vedere una canzone che mi piace il tuo fratello aspetta aspetta palo per vedere come ballare vai 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 Ballo! Io ricordo il tuo rito con il Germano, una rita più forte, ma io giocare più di te, io forte. Heiii, 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 heiii Heiiiii, heiii, 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 heiii. Aspetta Inbalia! ok legato legato no 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 Bene! Voi? Voi급? Voiissance! Voi Zamper? Voi Prezzo! Voi Prezzo! Non riesco a dirlo. È impossibile. È impossibile questa canzone. Di weh. Balo. Erdogan. Balo. Io sono più forte. Io sono più forte. Sì. Con quello sono più forti. Del Marocco. Sì, sì, con quello. E con cibo. La cibo. Cibo. Il riso. Buono. Più buono. Buono, quello buono. Saha. Bessa una cosa! Allah, io gli 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 gli. Ma sei che grande. No, capitolo. Grazie. Grande. Che t'ho il frattello. E il verda? Lo hallo? Lo hallo. Lo hallo. Paolo, ti conosci il Erdogan Milano. Rado. Rado, sì, è un grande Rado. Il numero uno è Rado. Rado, mio amico. Rado, Rado. Rado, vuole Rado, vuole subire il bici? Ha detto che Rado anche gli ha costruito tutto, ha fatto loro. L'ha aiutato. È bravissimo, Rado. È bravo, Rado. Quando andrò in Italia a fare conci un partice di calcio più grande. Va bene. Va bene, Fra. Va benissimo. Ha detto che l'altra volta ha vinto contro tuo fratello a fare una sfida. Rado. Rado. Fa il fulpo con me. Fa il fulpo. E, quello è di cosa c'è stesso. Cosa c'è stesso? Cosa c'è stesso, Fra. Rado. Paolo. Usama. Usama. Dimmi, Fra. Io adesso vado a dormire che è tardi. Sì, Fra. Ti lascio con loro due. Grazie, Fra. Davvero. Fra, scusami. Quando andrò in Italia mandami questo per te. Ah, grazie. Va bene. Va bene, Fra. Radina, ti credi. E mandami questo per te. Ah, grazie. Va bene. Ma ballo, ballo. Faremi un dedicato per il mio quartiere povero. O l'� Yazidiche? O l' G 식으로? In l cambiamento da voi dicevapptella iscriviti al l' einen arabicinali. Taccino con mi tutto questo poi. Esceppa di l' Jonas di Ostras sono di furERE e anche un ragazzo qui vuole al l'arabici? La mamma dei telefoni. L' soldier di Muh anbar, per tutti. Qu Jewett잖아. TsahiaCo Ravatla Tsahia, Ravatla Tahia, Rava Ravatla Ravana E vuoi Trata Tutte come faccio parla? come faccio parla? ciao ciao grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie 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 grazie